In una ventina d'anni di lavoro, Luis Raseto ed io abbiamo scritto Vangelo Laico secondo Feliciano. Un Vangelo Laico e alcuni lettori che lo hanno letto e altri lettori che non lo hanno ancora letto ci hanno fatto osservare che il nostro è un libro di fantasia, è un libro di immaginazione e letteratura. Che il nostro Gesù è un personaggio letterario, sì, ma tutti i personaggi sono personaggi letterari, Gesù è un personaggio fin dal principio. Non si può fare altro che raccontarlo e comprenderlo facendone un personaggio e cercando attraverso il personaggio di risalire alla persona. In un bel libro di Harold Bloom, Shakespeare, l'invenzione dell'uomo, che non a caso porta sulla copertina una riproduzione del Tondo Doni di Michelangelo, uno dei inventori dell'uomo così come lo conosciamo, diciamo a Shakespeare, a Cervantes e a tanti altri, comincia così questo libro, l'incipit di questo libro dice Prima di Shakespeare il personaggio letterario rimane relativamente inalterato, uomini e donne vengono rappresentati come esseri soggetti all'invecchiamento e alla morte, ma non al cambiamento dovuto alla trasformazione del loro rapporto con se stessi, piuttosto che con gli dei o con Dio. In Shakespeare i personaggi si sviluppano anziché rivelarsi e lo fanno perché concepiscono nuovamente se stessi, i personaggi si sviluppano anziché rivelarsi. Nei Vangeli, canonici, apocrifi, ignostici, Gesù si rivela, non si sviluppa. Gesù entra in scena e non fa altro che rivelarsi. Nel Vangelo laico invece si sviluppa. Nella terza pagina, Harold Bloom, nella terza pagina di Shakespeare, aggiunge Molti degli americani che credono di adorare Dio adorano in realtà tre importanti personaggi letterari. Lo Yahweh dello scrittore Yahvista, il primo autore della Genesi, dell'Esodo e dei Numeri. Il Gesù del Vangelo secondo Marco. E l'Allah del Corano. Tre personaggi letterari. Il Gesù del Vangelo secondo Marco. Sì, Gesù è nato e noi lo conosciamo grazie prima di tutti a Marco, il Vangelo più antico. Ne seguiranno altri, ma se Marco non avesse preso la decisione di scrivere, di raccontare, di costruire il personaggio di Gesù, noi non lo conosceremmo. E così, noi, Luis, Raseto e Dio, scrivendo questo Vangelo laico, siamo consapevoli di presentare un personaggio letterario. Ma non si può fare altro. Lo scrittore non può che costruire dei personaggi. Lo scrittore di romanzi, di racconti, di Vangeli, ma anche lo scrittore di libri di storia. Nei libri di storia non si trovano le persone, si trovano i personaggi. Più i personaggi sono verosimili, ben costruiti, e più il lettore ha la possibilità, attraverso l'ombra del personaggio, di risalire e di reinventare con lo scrittore che scrive, la persona che ha dato origine a questa costruzione. Quindi, noi pensiamo che il fatto che il Vangelo laico sia un libro di immaginazione non lo differenzi dagli altri Vangeli. La differenza forse sta in questo suo carattere laico. Vangelo laico, è possibile un Vangelo laico, non è uno simoro. Vangelo laico, è vita eterna, non è uno simoro.